Le piante secolari sono molto belle dal punto di vista della produzione, però poi sono difficili da gestire perché sono molto alte, perché le piante in alto poi viene male a raccogliere. Adesso anche le tecniche di raccolta sono cambiate, non si va più con le scale perché c'è tutto il decreto 81 sulla sicurezza che lo impedisce, quindi o si raccoglie con le scuotitrici o si raccoglie con gli agevolatori a mano. Le canne danneggiano le piante, quindi bisogna cercare sempre il sistema migliore per fare più prodotto senza danneggiare la pianta e senza mettere a rischio la propria salute. Domenica prossima, 29 ottobre, si terrà in un'unica data la camminata tra gli olivi e la settima edizione. Parteciperanno circa 150 comuni di tutta Italia, rappresentativi di 18 regioni. La Sardegna anche quest'anno siamo la seconda regione per soci che parteciperanno, ben 17 comuni dal nord al sud dell'isola. Oggi troviamo degli oli nei supermercati, negli ipermercati che costano 3-4 euro con l'etichetta extravergine d'oliva perché in realtà la Comunità Europea lo consente ma stiamo parlando di oli comunitari dove è presente solo il 20% di olio extravergine d'oliva dopodiché il resto si miscela. Nei prossimi mesi bandiremo un avviso pubblico noi affinché i ristoratori possano aderire per la realizzazione della cosiddetta carta dell'olio. L'obiettivo è quello che una famiglia, un appassionato, una qualsiasi persona possa arrecarsi in un ristorante che aderirà e poter scegliere, poter capire quello che sta mangiando. Mangiando